Ciao a tutti genio sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video vlog qua sul mio canale allora ragazzi in questo video non parleremo del Trapani ma so che oggi doveva uscire il video Highlights Castro Villa dei Trapani e non ho trovato nessun contenuto sul web contenente le immagini di questa partita quindi questo video uscirà sempre oggi ma leggermente verso la sera leggermente più tardi, verso il pomeriggio oggi ragazzi come avrete visto dalla miniatura e letto dal titolo parleremo di un nuovo pupazzo che è di un po' di elementi di come sto arredando la mia camera appunto di pupazzi perché ieri alla macchinetta sapete le macchinette dei pupazzi dove c'è il gancio come si dice? vabbè ho trovato un pupazzo ovvero eccolo qua quello di Dragon Ball io non sono un grandissimo fan di Dragon Ball da piccolo non l'ho mai guardato però almeno i personaggi principali li conosco guardate qua che bello c'è ancora vedete l'etichetta è molto ragazzi guardate qua è molto ma molto bello anche perché questo comunque è una ventina di euro costa e invece la macchinetta si spende solamente un euro due euro guardate qua che bello adesso io vi farò vedere un po' dove l'ho messo qua sopra dove ho le mensole un po' come ho arredato le mie mensole guardate qua che bello allora ragazzi vedete io ho la mia postazione dove faccio sempre video e poi sopra ho delle mensole che nei video non si vedono perché quando faccio i video si vede la parte dietro ovvero l'armadio ma sopra a questo allora queste sono le mie due mensole anzi tre perché c'è pure questa questa qua ovvero la lettera led che vi ho fatto anche un video con il mio nome l'ho messa assieme a questa che dovrebbe essere credo come si dice vabbè questa è legata al mio battesimo dovrebbe essere la non mi ricordo adesso come si chiama vabbè del battesimo e poi ho i due pupazzetti di Among Us questa è la prima mensole che ho scritto da sopra il nome di mio fratello ma lasciamo stare la prima mensole dedicata al mio film anzi serie saga preferito ovvero Harry Potter in Harry Potter ho il pop i due libri leggo quello di Corvo Nero e quello di Grifondoro poi c'è un diario e questo fatto a mano l'ho preso lo scorcio mese a Partinico molto 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 bello ancora lo devo scrivere e poi abbiamo il libro che adesso vi prendo questo è il primo per Harry Potter e la pietra filosofale ed eccolo qua ragazzi guardate qua Harry Potter e la pietra filosofale questo qua è il primo che adesso andiamo ad rimettere oh porca miseria ok lo mettiamo più così ok l'abbiamo messo ok perfetto perfetto e poi abbiamo il diciamo mensola la mensola che ho fatto esattamente oggi ovvero quella di Goku che ancora vedete anzi non è quella di Goku un po' è quella di tutti i pupazzi che ancora devo completare perché vedete ho messo per ora solamente Goku e Super Mario vedete Super Mario vicino e poi ci ho messo qua Goku ma ci dovrò mettere ovviamente anche altri personaggi se sentivo questo rumore è la mia sedia porca miseria da gaming che scriccola un po' guardate qua che bella la mensola ovviamente vi ripeto lì ci dovrò mettere anche un po' di cose in quell'angolo lì anche in quello di Harry Potter ci aggiungerò altre cose e forse anche là sopra dove c'era scritta di mio fratello insomma spero che vi sia piaciuto molto ragazzi io spero che Dragon Ball non so come si chiama questo se è Dragon Ball oppure no fatemi sapere nei commenti vi sia piaciuto questo bellissimo pupazzo preso alle macchinette al centro commerciale noi ci rivediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao